Cinque ore di vuoto mentale prima di accorgersi di aver ricevuto una coltellata. E' quanto accaduto nella notte fra Pasqua e Pasquetta all'esterno della discoteca Baia Imperiale di Gabice Monte. Cinque ore di buco sono il contenuto della testimonianza ricevuta dai carabinieri di Gabice da parte di un ventenne di origine russa residente a Vallefoglia che sarebbe stato colpito da un fendente sotto l'ascella. Ferita lieve che attenua soltanto la gravità dell'accaduto di un episodio dai toni incerti. Il giovane in questione infatti si è accorto della ferita solo a fine nottata, ovvero dopo che alla colazione delle cinque di mattina degli amici gli hanno fatto notare che perdeva sangue dalla maglietta. Il ventenne si è accorto della ferita, ha deciso di andare al pronto saccorso e da lì sono scattate le indagini. Il ragazzo ha detto soltanto di ricordarsi di essersi trovato in mezzo a un gruppetto di ragazzi che non conosceva, c'è stato qualche contatto a cui però non ha dato troppo peso. Ora i carabinieri valutano le immagini di videosorveglianza per avere elementi aggiuntivi di un episodio che si accompagna ad una nottata in cui si registrano anche due ragazzi che hanno raccontato di essere stati derubati in discoteca. Uno di una collanina, un altro di 20 euro. E dalla discoteca passiamo al campo sportivo perché è stata davvero una Pasqua turbolenta a Gabice, qui allo Stadio Magi di Gabice Mare. In questi giorni di Pasqua era previsto il torneo Regins Cup con decine di squadre da tutta Italia, presenti assieme a centinaia di ragazzi, calciatori e le loro famiglie. Proprio la domenica di Pasqua questo stadio è stato teatro di un episodio davvero allucinante. Si stava infatti giocando la partita a categoria esordienti fra la squadra ternana dell'Accademia e quella romana del Ponte di Nona. A un certo punto il match degenere in una zuffa fra dodicenni in cui interviene l'allenatore della squadra Umbra, Francesco Latini, a fare da pacere. Per tutta risposta un quarantenne padre di un giovane calciatore della squadra romana invade il campo, colpisce con un pugno l'allenatore 33enne facendolo rovinare a terra, dopodiché lo colpisce con un calcio alla schiena procurando una lesione al rene come diagnosticato all'ospedale di Cesena dove l'allenatore è stato ricoverato. Episodio sconcertante che costerà una denuncia e un daspo all'aggressore, mentre l'allenatore attraverso Facebook ha detto di stare bene nonostante tutto, così come attraverso Facebook la società ternana ha voluto dissociarsi dall'accaduto.